l'ognamo ma perché è basso e quindi ti senti capito per una volta c'è il cappellino lunghissimo è il regalo di Natale di Oxy questo video grazie grazie è carino grazie preferivo i soldi ma grazie la bustina cerchiamo di non essere troppo pretenziosi che qua la gente è pigre alla manina che funziona male per mettere il like c'hanno poca vita dai e Natale like like a 10.000 like vi esco sia il numero che l'indirizzo di Lucy Lane o un'operta speciale stacca 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 tu ma se arriviamo a 20.000 vi do il numero e l'indirizzo di Luca di Shikokujin e Fulal mi piacerebbe darvi quelli di Hontas ma non conosco l'indirizzo quindi per ora ci dobbiamo io sono salva dovremmo accontentarci di Luca allora in questo video super speciale di Natale quindi farei buon Natale a tutti tranne Hontas che non aveva il cappello di Natale per questo video comunque a parte questo in questo video valuteremo le skin di Natale e siccome dite sempre che io ho dei gusti di m***a nel valutare le skin ed effettivamente a me fanno schifo tutte le skin ho portato della gente in più per avere una visione in più su come sono le skin di Natale quindi direi di partire subito con una valutazione che va da 1 a 5 di questa skin qua e direi di far partire sempre le femmine poi Luca e poi io ci vuole anche il parere dei commenti e beh chiaro chiaro chiaramente poi voglio una lista da 1 a 20 perché sono 20 skin dove voi mi dite quello che pensate di ogni skin chiaro 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 adesso partirà Ticotica mi tutta e valuterà la skin perché devo partire io vabbè allora a me piace la sciarpina perché è fashion poi vabbè le guanciotte sono un tocco di stile e basta cosa devo dire carina carina ci sta da 1 a 5 da 1 a 5 dove 3 è in media facciamo 4 meno dai boia boia è anche troppo gentile è carina guarda c'è anche il naso a cuore vai Hontas quindi da 1 a 5 cosa ha dato lei non importa cosa ha dato lei devi valutarla tu anche io è uguale devi dirlo tu allora questo video è top gelato io ho 4 ma così proprio è perfetta che è come me guarda ce l'ho anch'io è uguale sesso spessore soprattutto dimmi che almeno a te questa skin fa schifo io le do un 1 1 sono d'accordo ma perché sono d'accordo è orribile è orribile non spenderei un V-Bucks per questa skin è vero fa schifo sono d'accordo ma c'è anche il contorno degli occhi tutto ghiacciato che sembra che c'ha tutto lo schifo intorno agli occhi no 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 bocciata l'unica roba bella di questa skin è il suo backpack del pinguino che è fighissimo che vabbè qua non si vede eh non l'ho preparato non sei sul pezzo eh non ha fatto i compiti a casa vabbè basta con questa skin andiamo alla prossima strabella ma stai zitto doveva dirlo doveva dirlo ti dimenticami basta non mi piace rispettiamo gli ordini non mi piace ok boh brutto proprio è cringe no non mi piace ma cosa ricordiamoci la valutazione da 1 a 5 ah scusatemi uno più per l'impegno ma basta con questi più non esistono i mezzi vuote vai a un tasto che a te eh non mi piace con la testa non mi piace vero che è cringiosa no via via ma che cosa boh Luca ma che gusti hanno allora prima di tutto hai il maglione natalizio sono d'accordo sono d'accordo poi c'ha le palline in mano le granate sono fighe è vero che sono le palline dell'albero di natale a parte che tu Oxi hai preso un'immagine che non si vede tanto bene comunque ma cosa dici come no si vede benissimo io non ho visto che le granate erano palline di natale ma perché tu sei cieca ma si vede benissimo sono i png ufficiali di fornet ma via io sono cieca e dislessica però questo è un dettaglio io le do un 5 meno e adesso basta questi meno 5 meno e meno vi ho contagiati vi ho contagiati io gli darei un 3 comunque la skin carina ma la testa rovina tutto se non fosse stato per quella testa vero vero la testa è orribile è vero sì infatti alla prossima tico tica mi tocca a te boh cioè normale 3 non ha niente di speciale non ha niente di brutto ok io quando vedo questa skin penso sempre a Luca ma non so perché io penso a Fra perché c'è un cappellino ah è vero è a Fra Fra scusami a Fra perché ha quel cappello lì ha brunzato il cappellino Octi Octi ti ho pensato se mi hai fatto lo smalto uguale un 3 nulla di bello no no però tranquilla ma se vuoi fai anche colazione non so ah posso ho anche le gocciole guarda ho preso anche le gocciole perfetto anch'io ho mangiato quelle prima no 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 non ho preso il succhino no è che mangiare le gocciole con il succhino si beve il tè il latte ma il tè l'ho già bevuto no come il tè il latte il latte il latte ma che è che il latte il latte il latte aspetta ma il latte guarda che fino a 21 anni il calcio si accura poi si perde ma il latte parzialmente scremato o intero parzialmente scremato che sennò si ingratta chiaro 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 va bene ragazzi scrivete nei commenti il latte o tè esatto e se è latte parzialmente scremato o intero andata per forza vai che la sfida abbia inizio tada io uguale 3 c'è tanta solidarietà femminile vero e tutti i voti uguali stanno copiando l'una dall'altra al mio 3 ti diciamo insieme il voto che abbiamo questa schiena ho dato un po' di più 1 2 3 2 3 ma 3 no no anche secondo me è basica mi ricorda Fra con quel cappello ci sta secondo me cioè la usare onesta voglio dire non capisco perché debba avere due cinture però vabbè è vero non so se l'aveva tenutato addirittura hai due strappi sui jeans tipo per mettere eh nasconde la pancetta perché non ha bevuto il latte scremato anche secondo me ha bevuto quello intero anche secondo me è in prevenzione del pandoro è vero è vero così non si allarga il cernone del cernone di nato questa è carinissima dai Luca io adesso siamo d'accordo guarda che carino io sono d'accordo con lei ragazzi anche il nasino rosso come Rudolf no dai è troppo carino gli do 4 io gli darei qualche anno di carcere alla faccia che sono un serial killer non è vero è carino ah sti maschi non capiscono niente io non gli darei neanche due V-Bucks per questa schifo fa proprio schifo ma se mi danno anche i V-Bucks e me la regalano forse lo accetto oh qua finalmente un po' di stile anche lui con la doppia cintura ma questa è la meme che mi ha messo quel tizio quando? è uno con cui ho fatto un video mi ha messo sta meme che è dove è ufficiale? ok no dai è carina è carina perché mi ricorda un video simpatico quindi gli do 5 quindi non è bella perché è bella ma è bella perché ricorda è qualcosa di bello carina sì esatto dai 5 vediamo valore affettivo allora è carina però non quindi 4 ma dai biondo occhi azzurri col ciuffo così sembra quello di Cartoon Network che hai presente si chiama Gianni Bravo è vero si pettina alla punta del ciuffo ma nessuno l'avrà visto nei commenti no esatto ma appena l'ho visto io Luca a te cosa pensi? allora io dico che è una delle skin più rare del gioco è uscita più di 600 giorni fa quindi oltre che bella come skin è anche rara quindi 4 e mezzo 2 io gli darei wow ma come 2? 2 2 a me non piace ok questa vai qui inizia a scaldarsi c'è allora bravi per l'impegno il design è carino però nel complesso esatto però nel complesso non mi piace non mi piace sentire queste parole neanche a me Luca non è che devi fare il fanservice solo perché questa skin piace a tutti di la verità è bellissima questa skin ma hai visto la sua versione bruciata? bellissima sì lo so qui manca proprio le conoscenze raga mi dispiace no no a me non piace a me non piace 5 5 5? vai Octi cosa? perché? perché? mi piace tantissimo perché ti piace una ragazza? è impossibile spiegare il motivo no no è bella e basta andiamo a è bellissima questa 5 più pure con l'ode no è bellissima ok questa la comprirei questa la comprirei subito c'è nello shop oggi c'è proprio ora nello shop vai la vado a shoppare vai Luca il tuo parere? uno o meno ok ondas cattiveria che cattiveria ondas io 5 anche io mi piace io gli darei un 4 4 4 e mezzo bravo no mi piace questa skin chichiamo chichiamo l'altro l'altro ragazzo dal video perché non capisce niente ciao Luca no dai ci sta mi ricorda troppo Napoleone questa skin non so perché è vero ha un chiedi napoleonesico ha qualcosa vabbè dai la controparte non è così stupenda ma è molto più bella ma perché tutti i maschi di Natale hanno due cinture ma perché tutti i maschi di Natale hanno due cinture per tenere la pancetta dei Natale esatto esatto quando tu mangi il pandoro il panettone fai festa ma pandoro o panettone pandoro 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 se è di pasticceria perché se se è quello in supermercato cioè sanno tipo di chimico i candidati non mi era assurdo perché il panettone no noi siamo tutti poveri lo prendiamo sempre solo dal supermercato è vero ma io l'ho detto te lo regalerò quando fatturerò come lusso te lo dico ma che cazzo vabbè lei se lo può permettere quello da pasticceria non so neanche cosa sia una pasticceria esatto non l'ho mai visitata in vita mia a me fa schifo cioè nel senso due gli darei questa schifo no i candidati fanno comitare una vita carina ma non chissà che quindi due tipo e poi è troppo alta quel cappello ti fa prendere gli headshot allontanato ah è vero poi miri quando miri ci sono tutti quelli di g davanti la testa è giga enorme è vero ma io ho un quattro mi piace ma anch'io siamo sulla stessa wave io e te ogni volta c'è qualcuno che deve essere discordante ma va bene va bene va bene Luca te cosa dici quattro quattro pieno ci sta mi piace l'ambasciatore del fanservice qua hola ma questa è stupenda cioè scusatemi questa qui è da da dieci su cinque è bellissima questa è la skin che dici bellissima ma non la shoppa nessuno ma neanche per sbaglio io non ho mai visto nessuno shopparla infatti io ce l'ho ma io non piace è l'unico no ma non non perché l'ho shoppata ma che sei scemo me l'hanno regalata e gli hanno dato questo stile però vabbè dai ci sta nel senso è un 3 questa skin è tranquilla è meme tipo è una bananita è molto femminile ma dove è vero ma dove è femminile mi sta dando delle caglie probabilmente per quello non vedo altro non ci vedo chiamiamo questo tipo nel video non me lo immagino oxy tutto oh sì adesso lo sostituiamo con Cristina e tu immagini una tipa esatto sostituiamola basta 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 abbiamo capito che quella è tranquilla andiamo a babbo natale questo qui season 7 ragazzi questo è un bel babbo natale daddy musica soft porn in sottofondo adesso metterò la webcam di crazy del suo video anche se lui non c'è in questo video tanto è perfetto lo stesso beh io ovviamente gli do un 5 chiaro vai ontas 2 ma che non sono qui sulla stessa lunghezza d'onda ma no basta lei ontas è una che guarda il carattere capito esatto o l'età comunque magari è pedofila per questo non gli piace boh no Luca vai tocca a te è tipo uno perché è già ormai vecchia passata di moda sta skin ma smetti di essere fan service ma puoi dare la tua opinione e non quella che pensano tutti la mia opinione in base a quanto anche è rara una skin no no allora zero il posto di uno io vorrei farvi notare come al solito la doppia cintura perché quello ma perché è standard per il resto io gli darei 4 sta skin a me piace soprattutto nel suo secondo stile quello con la testa da babbo natale che qua non ho bravo è vero però ci sta come skin secondo me è figa e invece tu crazy mad cosa ne pensi ok è vero è vero ti cambi tutto ti cambi tutto ti cambi tutto crazy mad tu cosa ne pensi facciano sapere questa skin suona stramale io non capisco perché gli eschi a quel coso azzurro dalla bocca cioè questa immagine ufficiale ricorda un po' world of warcraft è vero sembra il design un po' scopiazzato un warlock sembra però cioè la linguaccia così è un po' esagerata ma è la lingua dio è vero ma cos'è una cintura ma non lo so ne ha solo una no non ne ha quella non è una cintura ma è enorme come non è una cintura è la Caterina Emo quella non la vedi comunque ragazzi vi do un'informazione prima del voto che questa è una delle skin meno scioppate di Natale questa skin da una cinza la valuterei zero c'è anche io anch'io siamo tutti d'accordo un'animità di zero per questa skin io penso che nessuno se la cagli fai conto che tra l'altro era diventato un insulto c'erano i vapen che dicevano tuo padre Krampus questa skin si chiama Krampus che che vabbè andiamo avanti oh mamma mia cos'è sta roba questa deve ancora uscire questa è tipo Dance Monkey è un'altra cosa comunque secondo me non so se è di Natale o no questa skin ma l'ho messa allo stesso ma sembra una foto sembra di Natale ma è un bel non è un'animità no vabbè allora a me boh mi ricorda un film di Tim Burton ti faccio assomigliare un pochino a Opti costa uguale uguale vecchio uguale soprattutto i capelli secondo me quello è vero io gli darei tipo due però perché è scarsa di dettagli secondo me uno uno anch'io anch'io uno cinque pieno proprio tranquillissimo ma quindici ma che figata è vero vero non è di Natale per niente però l'ho messa lo stesso perché è nuovo è vero perché non ha due cinture esatto metto di misura a me piace tantissimo non mi gusta tre vabbè dai comunque un buon voto manca Ontas manca Ontas vediamo una figata sta skin troppo imponente io vorrei aspetta aspetta io voglio sapere che cosa vi viene in mente pensando a questa skin vai Lucy non voglio il voto voglio solo cosa vi viene in mente non lo so è inquietante anche me è inquieta però mi ricorda finché mi segui mi guarda dentro l'anima ok Luca Luca boh a me mi viene in mente che è bellissimo non so cosa mi dobbiamo avete presente la pubblicità quella del nanino che fa è vero è quello è lui è lui o non è lui non volevo dire però ma certo che è lui è lui ah doppia cintura come al solito esatto chiaro Natale ormai comunque andiamo con le valutazioni io voglio una cintura dietro dai è simpatico 4 regalato è simpatico è simpatico mi inquieta 3 mi inquieta 3 ma cosa allora io prendo tutti i voti che non ho dato le altre gli do un 9 what 9 ti piace così tanto l'ho scioppata io questa è bellissima io gli do un 1 confessionico allora io gli do un 15 che cavolo non si merita pochi voti è un 1 devi compensare quei nostri voti esatto non lo merita non se lo merita ok ma andiamo alla prossima mamma mia puoi chiudere il video mamma mia zitto zitto che a Lucy piace un sacco questa sono sicuro beh dai è tipo un misto tra una fattina e un po' dai hai capelli rossi come me hai capelli rossi come me le orecchiette da elfa dai un 3 un 3 se lo merita mamma mia se ti prego 1 dai luca va bene questa è versione piccola aspetta che piccolina questa è stupenda questa io la scioppo è bellissima è stracarina cioè guardate poi l'abbinamento che hanno fatto visible disappointment ma come ma come a me piace dai dai c'ha pure i disegnini ghirigori cioè è carina anche a me piace comunque io non ho dato il voto è vero va bene 4 sì ok 4 e mezzo luca 3 e 3 quarti virgola 2 2 virgola 3 periodico virgola 2 e via non mi piace proprio sta skin non ha senso di esistere andiamo a una cosa ma è carina è kawaii basta questo è kawaii lo dice di ogni skin tipo tutto il mio video di 20 minuti sull'armadieto è kawaii dai tipo questa deve uscire e secondo me questa è proprio party rock se ci fosse un party rock di talizia è proprio party rock questa qua ha lavato il maglione che gli è rimasto un po' piccolino perché sembra più forte quel maglione e ha la doppia cintura solito esatto quello è importantissimo gli occhiali vogliamo parlarne con la mete cioè eh gli occhiali un po' da 3 sono da web star sì da 3 ma anche la posizione eh sì è proprio sta flexando c'ha solo 3 dita poverino vabbè ragazzi quanto gli date? 3 e mezzo no 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 fermi questa qui la diciamo tutti insieme al voto eh ormai al 3 di octi bim boom bam 4 e 4 ricordi onta sempre sul pezzo eh qual è il voto? 3 l'ho detto ah ok ah ok e io non ho capito ah non l'ho sentito e non ti hai sentito ti abbiamo coperta ah è 3 no è 3 è 3 va bene andiamo alla prossima mamma mia che figo smettila di fare fanservice tu smettila no ti caccio fuori dal video ma non è fanservice ma voi avete capito perché la barba è staccata? dopo ve lo spiego no non l'ho capito ah doppia cintura chiaro sempre tutte rosse non si confondono eh vabbè però dai allora Lucy no adesso voglio sapere perché la barba è staccata cavoli uno per il cappellino perché mi piace la forma del cappellino tutto il resto è tenuto su col gel col cappellino così fatto apposta vai Hontas io 5 mi piace guarda che in questo momento Hontas e lui andrebbero stra in pandà sono vestiti uguali praticamente guarda è vero uguale va bene manca il cappellino ingellato Luca 5 è bellissima no io gli darei un 3 la barba è staccata perché lui è babbo natale quindi è ciccione quindi quando è morto ha perso la pelle però la barba è rimasta non ci credo hai capito no Matteo si è inventato no me l'ha detto un mio abbonato è una sua teoria il tuo abbonato è un genio è vero è vero è vero vive l'anno 3 mila lui esatto no no niente no non lo so Rick vero mi sembra falso sì è bellissimo è bellissimo no no io gli darei un 2 un 3 dai ma è bellissimo ma dove ma è fissata quando è incazzata quando la guardi con gli occhi chiusi allora è bellissimo ma no ma non esiste proprio dai un 3 se lo merita cioè non è bellissimo ma un 3 se lo merita è che secondo me quando Hontas vede il cibo esplode cioè è quello che gli fa valutare questa schinalta è solo quella ti passo una goccia la via web esatto lanciala lanciala andiamo alla prossima Elsa Elsa ma anche io mi piace mi piace mi è fissata con il cartone vabbè let it go si becca un bel 5 ci sta c'ha pure c'ha pure il rosetto di Lime Crime quindi è bellissimo di Lime Crime è una diba è vero poi c'è la sopracciglia di Spritz Brex Luca bello Luca a te cosa ne pensi io le do un bello 0 perché io non la userei mai ma io gli do un 1 dai vabbè ma questi maschi c'è la skin delle principessine che cavolo ma sai quanto è tattico cioè tu sei in gioco regalano tutti gli scudi perché sei super gnocca ma cosa sono le femmine però giocano pochissime femmine i maschi la vedono e dico che merda uccidiamola così non c'è più uccidiamola non è vero io quando la vedo penso quello sicuramente non penso oh adesso ti do il mio scudo principessa aspetta che ti lascio ho tutte le mie armi e tutti i miei materiali mamma mia pizzeria 5 subito proprio tranquillo 5 easy anche io proprio al volo anche io schifo di papà e rutto 3 ma hai rovinato la nostra unanimità mi dispiace tutti uguali fino ora volevamo fare quell'alternativa ah addirittura il maglione con la piramide degli illuminati qua cioè guarda e poi ho lo stesso poi questa skin è fighissima ci capiamo è fighissima assomiglia a hontas in effetti davvero eh siete uguali col cappellino ma dove la vedi ma lei non ce l'ha il cappellino io non vedo un solo grado di somiglianza tra hontas e questa skin nemmeno io lo vedo però se eh io c'ho le condivisioni di fianco al naso assomiglia a luca è uguale al naso respira assomiglia a luci raga oh ma c'ha gli occhi marroni allora assomiglia anche a me poi assomiglia a tutti questa è super carina cinque 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 è super guarda cambio otticambio è super cutie secondo me è super kawaii era meglio kawaii che cutie va bene quanto gli date quindi cinque tutti e io invece gli do un bel due non mi piace e allora c'eravamo quasi c'eravamo quasi eh sì oh questa è nuova questa deve ancora uscire dai ci sta a me piace questa è strammimmetica non so come dirtelo questo è ancora silenzio imbarazzante è solo a me che piacciono queste schifiche mi limiterò al voto no zero zero dai uno 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 ma come ma è bellissima vabbè vabbè io comunque questa skin un quattro glielo darei cioè ci sta che figo questa è la mia skin preferita di Natale io gli do un dieci tipo è proprio ok allora anche io gli do cinque le carotine ma anche la lama coltello e le palle di neve che sono le granate cioè è tutto perfetto in questa skin è vero forse è la testa un po' grande che fai headshot anche se spari a caso però ci sta non è vero tu sei capace di mancarlo lo stesso non lo manco anche se è davanti a me quello non è un problema hai smesso di fare le intro dove inizi con la cecchinata eh eh non ti entrano più gli egzi però anche io le do un cinque cosa ne pensate voi altre quattro e mezzo no non la prenderei non la prenderei quindi quattro e mezzo ah no è vero però neanch'io la scioperei le do quattro dai ecco vabbè io me la farei regalare è chiaro vedi così si pensi brava bravo ma che cosa vuol dire allora tutte le skin passate raga regalatemele vai dei instagram stories mi piacerebbe tanto queste skin la vorrei proprio ragazzi non solamente non mi acomo eh beh ci sta a me piace quindi ok siamo tutti d'accordo allora rivedendole tutte al volo voglio che ognuno di voi mi dica dunque la sua skin preferita ok mi piace mi piaceanoci femminile ok Huntas la regina l'ognomo ma no l'ognomo ma perché è basso e quindi ti senti capito per una volta che cosa ridi che tu sei uguale se sei basso potresti adottare anche tu per Natale la stessa tecnica del capello alto me lo metto dritto io sono indeciso tra il mio caro pupazzo di neve e questo ma siccome questo non è proprio una skin natalizia direi il pupazzo di neve tutta la vita